Due navi molto grandi attraccano il molo del porto di Oristano. Sono molto grandi davvero, ma ad attrarre l'attenzione soprattutto il carico, anch'esso di grandi dimensioni. Trattasi infatti di pale per torri eoliche e settori di palo che poi dovranno sorreggere le stesse. Ma ancora di più, se si fosse trattato di pesanti mezzi da cantiere, di pesanti travi e capriate per la costruzione di viadotti, sarebbe bastato solo uno sguardo e via senza curiosità. Ma se il carico di grandi dimensioni sono appunto pezzi delle odiate pale eoliche, ebbè allora è impossibile che passino inosservate. Inutile dire che i giornalisti della carta stampata regionale, online, tv e link di informazioni che affollano internet si sono precipitati a fotografare da ogni possibile angolazione il carico che ancora a bordo rimane di una delle due navi. Ovviamente è impossibile avere formazioni sulla destinazione di questo carico, infatti privacy docet. Di sicuro però il porto di Oristano, almeno su questo, è stato preferito per la sua posizione, ma anche per il suo pescaggio che permette l'ingresso e l'attacco alla banchina di grosse navi con grandi pescaggi. Destinazione quindi si presume anche poi non lontana. Ancora sotto il profilo tecnico, la provata capacità di scaricare materiali di grandi dimensioni. Un solo si dice, ovvero dovrebbe trattarsi di materiale da destinare per sostituire alcune installazioni già esistenti e a questo punto si presume bisognose di pezzi di ricambio.